Bala a tutti amici di Lega Nerd, bentornati alle video recensioni di Il Trono del Rai, io sono Zed Kastol, il fumetto di cui vi parlo oggi, un'opera italiana molto bella, è Scirocco di Giulio Macaione, edito da Bao Publishing. Boom! Allora ragazzi, Scirocco è il nuovo libro di Giulio Macaione per Bao Publishing. Io ho conosciuto l'artista con Stella di Mare nel 2018, sempre per Bao Publishing, e poi con il successivo Alice di Sogni in Sogno, che mi è piaciuto molto molto. L'anno scorso poi vi ho parlato anche di Fucking Sakura, uscito per Panini, una strada d'amore peraltro molto carina, ambientata in Giappone, piena di riferimenti molto cari a chi ha vissuto anche magari solo qualche settimana della Japan Life, ok? Scirocco è un libro che mi ha particolarmente convinto, nella sua delicatezza, nel suo approccio sensibile, ha molteplici argomenti anche piuttosto importanti, collegati tra loro, e questa è una caratteristica particolarmente positiva che riconosco a Giulio Macaione, che apprezzo molto. In Scirocco conosceremo una famiglia, un po' singolare forse, composta da Mia, una studentessa di 17 anni, ballerina, che abita a Venezia con il padre Gianni, il quale possiede un bar, tipo un baccaro veneziano, però è un locale, un bar, e che soprattutto ha scoperto la propria omosessualità, diciamo, un pochino avanti nel tempo. E poi nonna Elsa, che è la madre di Gianni, di origini siciliane, è un artista, scultrice in questo caso, dalla mentalità straordinariamente aperta, nonostante l'età e dallo spirito libero. Mia vorrebbe dare l'esame per poter accedere al corpo di ballo della Scala di Milano, ha il talento per farlo, anche se come tutte le 17 anni vorrebbe anche vivere la propria vita liberamente, magari innamorarsi come fanno tutti i suoi compagni e amici. Questo però significherebbe allontanarsi dal padre e dalla nonna, e in entrambi i casi si tratta di una faccenda complicata, perché il padre meriterebbe di trovare un compagno, una persona con cui relazionarsi, ma è ancora chiuso, restio al coming out pubblico, mentre la figlia tra l'altro gli crea profili sulle app per incontri. Elsa invece ha subito un profondo trauma, dopo che le è stata diagnosticata una terribile malattia, peraltro è una malattia che in realtà è riuscita anche a sconfiggere tramite terapie e tanta sofferenza, però non è più riuscita a scolpire le sue opere e questo l'ha portata a cambiare radicalmente. È sempre immersa nella paura e che certe cose possono tornare, e che quella che si trova a vivere non sia più la vita che aveva desiderato, lontana dalle proprie passioni, ma si tratti poi più che altro di sopravvivenza. E purtroppo, quando le cose sembrano andare in effetti anche abbastanza bene per Mia e Gianni, la paura si concretizza e aggredisce di colpo. Ad Elsa viene comunicata una notizia terribile e il suo mondo viene sconvolto, la malattia è tornata. Allora qui si pone un dubbio, affrontare di nuovo un calvario tremendo che porterà magari a sopravvivere come vi dicevo prima, più che vivere davvero, o assaporare intensamente quel poco che resta al 100%. Questo sarà l'evento cruciale che porterà soprattutto Elsa, ma anche Mia e Gianni, a fare delle scelte e affrontare in questo piccolo affresco di vita particolarmente ben riuscito. Scirocco Di Giulio Maccaione riesce assolutamente a raccontare e collegare tre aspetti della vita diversi ma correlati. Ci sono le insicurezze, le prove dell'adolescenza, con le prime scelte che poi porteranno a segnare la vita. Ci sono le insicurezze, le difficoltà dell'età adulta, quando pesano gli errori del passato e quando poi si fa anche un po' fatica ad immaginare di poter ancora cambiare strada. E poi infine ci sono le aspettative e le decisioni dell'età matura dopo che si è vissuto una vita intera e si vorrebbe ancora provare quella gioia e quella spensieratezza ormai così tanto indietro negli anni. Con straordinaria sensibilità Giulio Maccaione riesce a collegare le tre cose e a renderle tutto in una questione familiare, perché la famiglia è il filo conduttore di questo libro. E non solo. In Scirocco c'è tutto. Speranza e gioia di vivere Paura e dolore Impegno e ribellione Ricerca della felicità Importanza delle scelte E di poter sempre avere la possibilità di farne una. In pratica in 208 pagine c'è l'intero spettro delle emozioni umane che potremmo considerare i più importanti e basilari. Giulio poi disegna con un tratto morbido, particolarmente gradevole a me piace molto, pulito, delicato, anche un po' ammiccante con il quale è facile rapportarsi. I toni del blu e del grigio, dei primi capitoli a Venezia lasceranno poi spazio al giallo quando la narrazione si trasferirà in Sicilia per poi virare alla fine sul viola durante l'epilogo. Mi piace uno schema colori anche molto interessante, particolarmente espressivo. I suoi disegni sono plastici, con influenze dal comics americano indipendente ma con belle attitudini, una matrice pop con qualche spruzzata anche di autorialità che mi piace anche riguardo certe inquadrature, certe scene. Mi ha colpito molto Scirocco perché è un libro che racconta una storia profondamente umana senza mai alzare la voce comunicandomi un grande trasporto e un senso di calore e amore in tutte le pagine. I personaggi poi sono riusciti, credibili, Elsa poi ha un vulcano di emozioni ed è veramente il motore trainante di tutta questa narrazione. Bella poi la differenza tra l'atmosfera veneziana e quelle siciliane dove cambiano un po' i tempi. Lo consiglio caldamente, mi piace come Giulio Macaione realizza i suoi fumetti e Scirocco è sicuramente un ottimo esempio della sua arte. Mai pesante, nonostante il tema profondo e impegnativo, è sicuramente emozionante. Bella l'edizione di Baopublishing in cartonato, costa 20 euro e io veramente vi consiglio di non perdervi questo titolo sensibilissimo. Ragazzi come al solito se vi è piaciuto il video vi chiedo di lasciare un like, un commento, una ricondivisione per supportare il nostro lavoro e per far parte della nostra community di Lega Nerd. Mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!